Il caldo torrido non molla la presa, le principali città delle Marche sono contrassegnate da Bollino Rosso, livello massimo di guardia che fa scattare l'allerta di servizi sanitari e sociali per le ondate di calore. L'anticiclone africano Caronte, presente sulla penisola italiana, fa impennare la colonnina di mercurio anche nella nostra regione, raggiungendo così i 40 gradi percepiti. Ondata di caldo record in Italia e il Ministero della Salute ha diramato una circolare destinata alle regioni nella quale introduce il codice calore in pronto soccorso, attiva tutti i giorni gli ambulatori territoriali per accessi da effetti di caldo e potenzia il servizio di guardia medica. Inoltre riattiva le unità speciali di continuità assistenziale per favorire l'assistenza domiciliare ed evitare l'accesso inappropriato agli ospedali. Temperature elevate, decisamente insopportabili, non solo nelle consuete ore più calde della giornata. L'allerta resta alta ed è utile seguire alcuni consigli. La cosa fondamentale è cercare di non uscire negli orari più caldi della giornata, quindi non nelle ore centrali, perché ovviamente le temperature sono veramente alte. Un'altra cosa fondamentale poi è l'idratazione, anche se si sente dire spesso, però è fondamentale bere la giusta quantitativa di acqua e quindi bere poco e spesso, sempre durante la giornata, anche se non si sente lo stimolo della sete. E soprattutto fare molta attenzione a bere anche negli ambienti di lavoro dove c'è l'aria condizionata, perché magari non ci sentiamo sudati, ma sono ambienti che disidratano tantissimo, per cui in realtà poi perdiamo molti liquidi e di conseguenza anche molti sali e minerali. Per quanto riguarda l'alimentazione? Frutta e verdura di stagione soprattutto e preferibilmente anche a chilometro zero, soprattutto tipo albicocche, melone, anguria, che sono tutta frutta ricca di acqua, ma anche vitamine, sale e minerali e non da ultimo carotenoidi che ci aiutano a proteggere la pelle quando poi ci esponiamo anche al sole. Molto importante inoltre è anche garantire l'apporto di proteine, proteine magre in questo caso che hanno una digestione facile, come ad esempio pesce, carne bianca e magari anche per far colazione o spuntini yogurt o kefir che contengono probiotici utili a salvaguardare l'intestino che comunque in questo periodo di caldo è messo alla prova.